1250 quindi aspettiamo c'è una Ferrari mi sta salendo e auto transegnando sul piarello SSK tutto il tavolo di che è? è un programma, è un'altra mi invita adesso ok? mi piace il vero è un'altra il landscape è un'altra le ruote sono un'altra le persone sono meravigliate ma io mi piace un'altra ma siamo in San Marino non c'è l'Italia mi ricorda? di quello siamo in San Marino l'Italia con il fioppo 518C più conosciuta come Farin ragazzi i giovani a volare come va? benissimo ci stiamo vivendo tantissimo tempo e poi noi per questo è un studente con tanti di uomini che non siamo voluti da qui è tanta bene ci vediamo giù a Rimini e ragazzi divertitemi ciao buona giornata ecco il numero 4 l'equipaggio l'equipaggio guardis giorno da Italia sempre sul 435 serie a Spitzker del 56 ragazzi benvenuti a San Marino grazie bellissimo senti tornare qua bellissimo dalla Sardegna buon furore bravo bravo bisogna portare altri numeri delle emergenti vi saluto ci vediamo giù a Rimini buona giornata non si ingrattano la storica l'abbiamo capito è inutile che vi fai segno da lontano l'abbiamo capito con il numero 6 ancora Porsche l'equipaggio Mazzolini Rossoni con 356 speed del 56 ragazzi mi siete abbonzati anche l'avvento esatto esatto bene bene è una macchina debole sarà sarà ragazzi divertiteli e ci vediamo su a Rimini dai dai su ragazzi ciao ancora Porsche con il numero 5 l'equipaggio di Anna Caronca sul posto del 56 55 del 1970 voglio dire che ho disegnato da Bugatti ed è considerata la più bella auto da Porsche del mondo allora come siete voi voi io ho detto che questa è una dei migliori del mondo ah questa è la più bella è l'assistenza perché la macchina è miglia è bellissima questa avventura degli anni 30 del genio Bugatti e ancora vedremo transitare un'altra non si tratta di di dicembre è ferma per il un'altra Grazie.